La magnanimità non è contro la giustizia, bisogna regolare i flussi, ma ha pensato ai Rom, ha pensato ai carcerati. E' questo che vuol dire a Milano? Voglio dire a Milano che, diciamo, magnanimità e equilibrio non si escludono, ricordando Milano la sua grande storia di ospitalità, la sua straordinaria tradizione in questo senso. Quindi anche lì bisogna mettersi pazientemente al lavoro, partendo dalle pratiche buone che sono già in atto, in vari campi, io ne ho citati taluni, insomma, e potenziando questo dato. Il travaglio, appunto, avendo già di mire il positivo, parte da un positivo, cioè l'attesa del figlio, l'amore tra lo sposo e la sposa che danno come frutto il bambino. Quindi noi dobbiamo partire dai frutti che sono già in atto e svilupparli ognuno a seconda della sua responsabilità. Il comune cittadino lo farà bene in casa sua, nel condominio, nel quartiere, impegnandosi in parrocchie, eccetera, e il politico lo farà facendo il suo mestiere. Grazie. Milano, le piace? Sì, mi piace molto. Mi trovo sempre più a mio agio. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.